buongiorno 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 qui luca di scacciati di cambia valute punto ch io vi do il benvenuto a questo appuntamento mensile di currency watch l'appuntamento di cambia valute punto ch dove andiamo ad analizzare il franco svizzero per capire se è il momento giusto per cambiare oppure no fatemi condividere il mio schermo così andiamo subito sul sito di cambia valute sul software che utilizziamo appunto in questo appuntamento per cercare di analizzare il cambio eurofranco nello scorso appuntamento avevamo visto come con buone probabilità il franco svizzero aveva un potenziale di salita addirittura fino ai massimi precedenti che risalivano al alla fine del duemila e ventitré questo effettivamente si è è successo tant'è che nel precedente webinar avevamo individuato come area temporale come periodo perfetto per cambiare i nostri franchi svizzeri in euro la prima decade del mese di agosto e così è stato tant'è che vediamo appunto che esattamente nel giorno 5 del di agosto c'è stato addirittura un movimento durante la giornata del franco svizzero che è andato addirittura oltre i massimi di fine del duemila e ventitré oggi vedremo come comportarci da qui ai prossimi mesi prima di appunto andare a vedere i grafici e fare le nostre analisi vi ricordo che sul sito cambiavalute.ch sono sempre presenti delle promozioni attive infatti basta andare su cambiavalute.ch e visitare la pagina promo e come vedete appunto abbiamo attiva la promozione presentaci una ditta quindi se ci presentate una ditta potete ricevere 500 franchi che insomma sono una bella cifra se siete già nostri clienti e ci presentate un vostro amico entrambi ricevete 25 euro se invece non siete ancora nostri clienti cosa quasi impossibile in ticino ma se appunto ancora non lo siete e fate il vostro primo cambio potete guadagnare appunto 25 euro con il vostro primo cambio trovate la pagina appunto qui sul sito cambiavalute.ch per chi è collegato in live mando il link subito in chat chat che tra l'altro potete utilizzare anche per farvi eventuali domande bene tra l'altro all'interno del vostro pannello di controllo diciamo qui stiamo entrando nel mio avete anche il pulsante invito ai amici e guadagna quindi cliccando potete avere appunto avete questo qr code personalizzato questo codice promo personalizzato che addirittura potete mandare ai vostri amici anche tramite whatsapp così che appunto qualora poi dovessero diventare ai nostri clienti appunto in automatico riceverete il premio ma andiamo a vedere la parte interessante dell'appuntamento di oggi che è quella per cui siete qui ovvero l'analisi del cambio chf euro ok andiamo subito a vedere una cosa molto molto interessante infatti qui abbiamo il nostro software forecaster che è appunto un software che ci consente di analizzare tutti i mercati finanziari noi in questo appuntamento chiaramente lo utilizziamo per l'analisi del buon franco svizzero e che cosa vediamo signori vediamo una cosa molto molto interessante in questo grafico stiamo visualizzando la stagionalità del franco svizzero del franco appunto contro del cambio franco svizzero euro e che cos'è questa linea blu lo dico velocemente per chi magari non c'era i precedenti appuntamenti molto semplicemente questo è l'andamento medio che ha avuto il franco svizzero contro l'euro negli ultimi cinque anni vuol dire che abbiamo preso il grafico banalmente del franco svizzero contro euro degli ultimi cinque anni quindi 2023 2022 2021 20 e 19 abbiamo fatto una media e facendo una media dei grafici riusciamo a vedere appunto se ci sono dei particolari periodi durante l'anno in cui si sviluppano tendenzialmente delle tendenze e infatti vediamo per esempio che proprio il motivo uno dei motivi per cui avevamo visto che potevamo aspettarci un massimo nella prima decade di agosto è anche dovuta la stagionalità che in passato ci fa vedere che appunto il franco svizzero ha sempre beneficiato di un trend rialzista proprio nel periodo tra giugno e l'inizio di agosto andiamo a vedere che cosa possiamo capire adesso per le prossime settimane barra mesi intanto vediamo una cosa interessante ovvero che il prezzo attuale del cambio franco svizzero euro è altamente correlato con tutte le stagionalità che vediamo su questo grafico quindi abbiamo in questo momento un cambio franco svizzero euro che si sta muovendo mediamente come ha fatto in passato mediamente il prezzo attuale sta seguendo lo stesso pattern che si è presentato appunto negli ultimi sette anni sui mercati sul cambio appunto franco svizzero euro questo è una notizia interessante signori perché perché questo ci permette di capire come i prezzi potrebbero muoversi da qui appunto nei prossimi mesi e la cosa interessante che vediamo appunto è questa ovvero che già a occhio si vede da dove siamo oggi fino all'inizio di novembre stagionalmente quindi storicamente il franco svizzero ha perso terreno nei confronti dell'euro ok questo vuol dire appunto che da oggi dove siamo dove siamo fino all'inizio di novembre tendenzialmente il cambio franco svizzero euro è calato un pochettino e le probabilità che questo avvenga nelle pro nei prossimi mesi al momento sono abbastanza alte perché perché vediamo che il prezzo attuale che possiamo aggiungere volendo anche al grafico si sta muovendo con un'alta correlazione rispetto appunto queste stagionalità ok quindi la prima indicazione che abbiamo dalla stagionalità che avete sicuramente imparato a a conoscere è proprio un dato che ci fa dire insomma mentre nel precedente appuntamento vi avevo detto non ditelo ai miei colleghi ma se potete aspettate l'inizio di agosto a cambiare adesso vi dico se sapete che nei prossimi due mesi avrete bisogno di eh di euro cambiate adesso i vostri franchi perché c'è una buona probabilità appunto che il cambio peggiori da qui fino all'inizio di novembre ok è importante cosa possiamo aspettarci beh possiamo aspettarci come vediamo qui un ehm ribasso compreso diciamo tra l'uno e sette e l'uno per cento ecco quindi comunque stiamo parlando di un ribasso non esagerato ma che comunque ci invoglia quantomeno se li abbiamo a disposizione a cambiare in questo momento piuttosto che aspettare appunto un mese ok quindi questa è la prima indicazione che eh troviamo utilizzando la stagionalità come sempre andiamo a a vedere anche come si stanno muovendo sul eh franco svizzero gli asset manager cosa molto molto interessante sempre da ehm da vedere ok e eh appunto che cosa che cosa riusciamo a vedere in questo caso beh riusciamo a vedere una cosa molto interessante con i prezzi appunto che si trovano del cambio franco svizzero euro praticamente sui massimi storici come vediamo appunto dal grafico eh vediamo che le posizioni ribassiste dei degli asset manager si stanno appunto ehm un attimino calando ok quindi diciamo che gli asset manager eh continuano a essere di base rialzisti appunto sul mh sul 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 franco svizzero c'è da dire c'è da dire che l'andamento che troviamo appunto sulle posizioni dei degli istituzionali fanno pensare ad una situazione simile a quella che abbiamo trovato a ridosso del 2023 vedete proprio che c'è un calo in questo momento lo vediamo proprio eh lo vediamo proprio qui un calo delle posizioni nette ok quindi delle delle posizioni sul franco svizzero quindi eh c'è un diciamo delle posizioni short in questo caso ok molto simile a quello che abbiamo visto qua quindi potremmo appunto aspettarci se dovesse ripetersi quello che è successo nel 2022 appunto un calo delle quotazioni ecco un calo ho sbagliato a fare il disegno un calo come per esempio questo ok visto che siamo già appunto in una fase abbastanza avanzata di questo calo di questi volumi e quindi una situazione di questo tipo secondo me abbastanza plausibile un piccolo diciamo appunto in uno uno e mezzo massimo due per cento di ribasso da qui fino appunto all'inizio di eh ottobre per poi appunto vedere un franco svizzero che potrebbe assolutamente tornare a ehm guadagnare valore nei confronti dell'euro se torniamo appunto poi a vedere la stagionalità ci accorgiamo di un'altra cosa interessante ovvero scusate ho detto ottobre ma è l'inizio di novembre vediamo che poi proprio da inizio novembre fino a il eh inizio gennaio del nuovo anno vediamo che comincia un periodo estremamente interessante per appunto il l'amico franco svizzero che vediamo appunto in passato nel addirittura al cento per cento delle volte negli ultimi tre anni l'ottanta per cento delle volte negli ultimi cinque anni e nel settanta per cento delle volte negli ultimi sette ha sempre guadagnato valore nei confronti appunto dell'euro tra l'altro gli anni in cui questa statistica non ha funzionato ha veramente perso poco quindi diciamo che è davvero un periodo interessante quello che poi parte dalla fine di ottobre barra inizio novembre fino a eh la fine dell'anno inoltrata addirittura fino all'anno all'anno nuovo quindi molto interessante tutta questa situazione proprio perché eh tra l'altro a fine di questo mese se andiamo a vedere questo bel articolo su investire punto biz vediamo che il 26 settembre 2024 questo articolo ve lo mando che potrebbe essere interessante chi vedrà la registrazione troverà il link in descrizione ehm appunto si ri eh riunirà la ehm Swiss National Bank la banca nazionale svizzera appuntamento nel quale molto probabilmente andrà andrà a abbassare ulteriormente i tassi di interesse sul franco svizzero che in questo momento si trovano all'uno venticinque per cento probabilmente abbasserà ulteriormente il tasso di interesse cosa che quantomeno nel breve termine rende un pochettino meno appetibile investimenti in franchi svizzeri cosa che appunto potrebbe eh concorrere a far calare proprio nelle prossime settimane barra due mesi il valore del franco svizzero nei confronti dell'euro ok quindi molto interessante questa situazione quindi ricapitolando se guadagnate in franchi svizzeri questo è un momento buono per cambiare a differenza di quello che vi dissi nel precedente appuntamento dove vi avevo detto se riuscite aspettate inizio agosto perché appunto potrebbe essere ovviamente si parla di probabilità e non è mai una certezza perché potrebbe potrebbero cambiare le carte in tavola ovviamente ma diciamo che potrebbe appunto il franco svizzero perdere di valore nei confronti dell'euro poi diciamo che la successiva finestra molto interessante per cambiare molto bene i propri franchi svizzeri in euro potrebbe essere appunto fine dicembre inizio di gennaio quindi diciamo attorno a natale quindi fate i vostri calcoli queste sono le probabilità io vi ricordo che sul sito cambiavalute.ch è sempre attiva la pagina promozioni andategli a dare un occhio perché insomma sia 25 euro se ci presentate un amico sia un bel 500 franchettini se ci presentate una ditta che inizia a cambiare con noi non fa mai male insomma non ci sputiamo assolutamente sopra io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo currency watch grazie a tutti e buona continuazione buon weekend che è il mio amico sia un bel video che è 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 un bel video che